Hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Con 132 favoribili e 267 contrari la Camera respinge. No, 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 colleghi, cortesemente abbassate i cartelli. Chiedo ai commissi di intervenire cortesemente. Colleghi, abbassate i cartelli. Colleghi, deputato Polanno, la ricciamo all'ordine. Deputato Polanno, la ricciamo all'ordine. Deputato, abbandoni i banchi del governo, cortesemente. Si allontani. Deputato Polanno, la ricciamo all'ordine. Deputato, dispongo all'allontanamento dall'aula del deputato Polanno. L'ufficio di presidenza sarà investito di questo mio bisogno. deputato, la ricciamo all'ordine. Deputato all'Asia. Deputato all'Asia. Dispongo all'espulsione dall'aula del deputato all'Asia. Deputato, se è possibile allontanare il deputato all'Asia dall'aula. Chiedo ai questioni di disporre l'allontanamento del deputato all'Asia dall'aula. Dove sono i questioni? Sostendo la seduta per 5 minuti. La seduta è sospesa.